ciao sono Elena e sono qui per aiutarti a migliorare a scoprire la tua voce ti do il benvenuto sul mio canale e qui nel mio studio oggi la mia tenuta è sportiva perché parleremo di alcuni esercizi di mobilizzazione collo spalle quindi allungamento muscolare stretching utilissimi per sciogliere alcune delle tensioni che possono compromettere il nostro lavoro come cantanti detto questo vi chiedo di posizionarvi in posizione retta sugli avampiedi con le gambe leggermente divaricate dopo aver respirato e quindi esservi rilassati iniziamo con una serie di esercizi per sciogliere collo e spalle potete chiudere gli occhi e ascoltare solo la mia voce potete seguirmi io vi consiglio comunque di fare stretching e allungamento muscolare sempre e comunque tutti i giorni anche se non avete lezione di canto anche se non volete vocalizzare o esercitarvi con la voce perché comunque avere un corpo sempre pronto al lavoro rilassato tonico ma appunto senza tensioni è comunque utile nella vita di tutti i giorni allora iniziamo con una rotazione delle spalle 5 verso il dietro 5 verso avanti cambio direzione iniziamo con una rotazione delle spalle inspiro porto le braccia verso l'alto piego un gomito e spingo verso dietro il braccio cambio cerco proprio l'allungamento cambio cambio il braccio rotazioni con le mani sulle spalle sempre 5 avanti dietro cambio direzione unisco le mani dietro e allungo lascia colla avanti dietro lento tre volte laterale sempre tre volte per lato cambio 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 ancora ruoto verso la spalla destra e verso la sinistra sempre tre volte rotazione completa del collo rotazione completa del collo da un lato dall'altro e ancora allungo il collo senza tirare troppo mi raccomando non siamo qua per farci del male ma solo per allungare e respiro sempre mi raccomando durante lo stretching riporto il collo in posizione allineata allungo le braccia verso l'alto unisco le mani ribalto tiro faccio una gobba e porto in avanti le mani e le braccia e allungo bene è una serie di esercizi abbastanza semplice ma molto utile per iniziare sia la giornata sia gli esercizi poi di canto io di solito li faccio prima o dopo la respirazione dipende oggi mi sono sentita di farli soprattutto perché ho dormito malissimo e ho il colo che mi fa male quindi ho pensato di dire l'utile e il dilettevole di farli io e di farli insieme a voi e potete aggiungerne altri potete farli con tempi più prolungati anzi io comunque di solito faccio sempre un 15 20 minuti di stretching prima di approcciarmi alla mia vocalizzazione o al canto e potete anche fare questo quindi allungarvi verso il basso mi raccomando quando tornate in posizione retta attenzione a srotolare la colonna vertebrale e la testa è l'ultima cosa che si alza devo svelarvi un piccolo segreto ho fatto per tanti tanti anni danza classica e in questi casi mi viene molto utile comunque detto questo vi saluto vi consiglio di fare sempre stretching e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao